E adesso vado di qua Non è un buon modo per risolvere i livelli, Stef Ok, modem wireless Adesso devo schivarlo Come faccio a schivarlo, Fere? Non è la più pallida Aspetta, la vuoi una ciambella? Ha funzionato Ha funzionato Corro Corri, corri, scappa Scappa Ma non ci credo che l'hai fatto così questo livello Non ci credo E ragazzi, come va? Io sono Fere Niki E sono Stef Che se ci chiamo è RobberyBob2 E torniamo con i giochi per cellulare Questo in particolare è uno che nei mesi ci avete sempre chiesto tantissimo Ovviamente dovremmo vestire i panni del ladro Bob Ed eccoci qua prontissimi a iniziare Esattamente Allora Fere, siamo prontissimi? Ti spiego la storiella del gioco? Vai, vai Allora, noi siamo dei ladri Siamo stati beccati per strada da un poliziotto Siamo iniziati a scappare velocissimi Per sbaglio siamo entrati dentro una festa di matrimonio Wow Abbiamo distrutto la torta della sposa E il padre era un mafioso Di conseguenza per, diciamo, riscattarci e sistemare i danni che abbiamo creato Lui ci sta obbligando a rubare in delle case Quindi ci tocca lavorare per lui in poche parole Perché ci è andata molta sfiga Cioè facciamo pure schifo come ladri da soli E dobbiamo lavorare per qualcun altro Va bene, va bene L'importante è rubare Esattamente Allora, partiamo È molto carino il gioco perché noi abbiamo la visuale dall'alto Dobbiamo stare attenti a non farci beccare Esatto, esatto Dobbiamo camminare piano piano Le cose che sbillucicano, Fede, sono le cose da rubare Quindi nel caso della vecchietta dobbiamo passarle vicino o da dietro E gli abbiamo rubato un oggetto Ok, è un telecomando È un telecomando? Sì, ce l'ho scritto telecomando Questo invece è carta igienica Beh, è molto utile, certo Ma io pensavo che la vecchietta le dovessimo rubare tipo dei gioielli Sul telecomando Ruba cose un po' strane, te l'ho detto Eh, ho notato, ho notato Eh, sì, è un po' particolare Adesso cosa ci siamo presi? Una bella forchetta di plastica per il più Niente una forchetta buona Ma scusa, ti davo 5 euro, andavi al market e ti compravi tutto, eh Fede Perché c'è bisogno di rubare qui Però va bene In ogni caso, vedi, abbiamo dovuto fare la strada larga per aggirare la sua visuale Perché, vedi, lui vedeva tutto intorno così Ok, perfetto Adesso passiamo qua Qua ci sono le telecamere E c'è una telecamera Quindi Piano È tutta questione di tempismo Ovviamente io voglio rubare tutto Quindi faccio così No, ti becca, ti becca No, guarda, io mi sono già accorto Che fin qua non arriva Ok, mamma mia che ansia mi hai messo Adesso andiamo di qua Vai Rubiamo qualsiasi cosa sia questo Vabbè Bene, bene Oh, a cena almeno ci mangiamo qualcosa Due stelle e mezzo Ok E il primo livello è andato Abbiamo iniziato a far felice il boss E adesso c'è una bella pubblicità Casa numero due Ovviamente più andiamo avanti più si fa difficile Quindi dobbiamo stare attenti Allora, non so che cosa abbiamo acchiapato Perché adesso Eh, non lo so, non l'ho guardato Ho detto Ah, una ciambella Questa qua è una delle sue abilità potentissime Ok Ti farò vedere dopo a che cosa serve Perfetto Allora, qui c'è una vecchietta Noi dobbiamo Oh, occhio, occhio, occhio Eh, 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 eh Aspetta, aspetta Ma ci ha visto? Aspetta, aspetta, aspetta Sicura? Oh, no, 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 no Mi vuole tacchiare per me Adesso le stiamo dietro tutto il tempo Qua non mi era accorto che c'è una cosa da rubare Quindi ci andiamo rapidissimi Ok E mi sa che ci nascondiamo qua un attimino Guarda come mi sono nascosto Super sneaky, ok Non ci dovrebbe vedere, vero? Opla Ok, perfetto Questa volta sono stato bravo Mettilo Ok, in bagno che cosa vogliamo rubare? Fammi capire Vediamo un po' Una mina teletrasporto Ma cos'è strano? Che è? Siamo passati dalle forchette di plastica A questa roba Che è decisamente meglio Aspetta però Pantaloni Ma come gli abbiamo rubato i pantaloni? Magari ci servono, Ferre, scusami Potrebbero essere utili Che poi non si è accorto di nulla È rimasto lì impassibile Non viene freguita Esattamente Corri, 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 corri Gli hai rubato i pantaloni Che avevo andato sono un pantaloni Ma mi sono laureato a pieni voti In che senso? Hai frequentato qualche università per ladri? Non proprio Però un armadio pieno di diplomi Gli hai tutti rubati Abbiamo capito L'hai capita, sì? Abbiamo capito Ok, ok Meno male che l'hai capita Allora, prima stellina fatta Seconda stellina Non riesco mai a fare la terza E questa volta ce l'ho fatta Perché mi sono messa a correre Tu ti sei spaventata? Ok Ma se noi corriamo Per andare all'uscita Non succede nulla Il problema è se ci beccano Mentre stiamo in mezzo a livello È perché ho visto Che praticamente aveva la nuvoletta Dell'orecchio Quindi stava sentendo i tuoi rumori Mi ha fatto spaventare Vabbè, andiamo avanti Esattamente Livello 3 Mi sa che stiamo andando a rubare del cibo, Ferre È venuta fame Dopo tutti questi furti È venuta fame Qua c'è una porta chiusa Quindi non possiamo Oh Cavolo, ok Vieni, vieni cagnolino No, no Ti morde, ti morde Ah, ok È bloccato, è bloccato Quindi basta fare la strada giusta Allora, visto che ci sono Lo faccio di corsa Opla Ma l'abbiamo incastrato Guarda Si è incastrato nella scatola Hai ragione L'abbiamo incastrato No, ok No, no, no Scappa, scappa, scappa Mamma mia Pensavo di essere al sicuro No, no, no Abbiamo preso in tutto questo La chiave Che possiamo ovviamente utilizzare Per aprire qua Quindi Vediamo un pochettino Allora Ferre? Ha chiamato la polizia, Steph Ferre, ho notato Sta arrivando la polizia, Steph Ferre, è anche un tipo a darmi un colpo Scappa, Steph Ferre, dove vado? Via Vado di qui? Sì Ok Non so dove dobbiamo andare Scusi signora, si può spostare, grazie Ma no, stiamo facendo un disastro Stufato di gabbiano Ma no Sembra buono Ma cosa sembra buono? Stai zitto Perché mi faccia i gabbiani? Ma cosa sembra buono, Steph? Guarda che è di Gordon Ramsay, eh Quindi è buono per forza No, non è buono Guarda, guardami Guarda, l'ho piegato Ok, ok Sono stanco, sono stanco, sono stanco La tizia continua a chiamare la polizia Quello continua a inseguirmi E tu scappatene, scappa via Mi muovo piano, piano, piano così Ce l'ho fatta? Sì In un modo molto insolito E infatti ha malapena una stellina Oh no, no, sta salendo Quasi due, dai Per pietà Vabbè sì, perché ci siamo fatti accorgere Allora Il boss già aveva chiesto Lo stufato di gabbiano Noi l'abbiamo preso Non importa come Non giudichiamo i mezzi del nostro successo L'importante è riuscirci Esatto Ok, comunque come avevo detto Si sta facendo già più difficile Questo livello era un po' particolare Molto, molto Non so cosa avrei dovuto fare Per non farmi beccare dalla tizia Andiamo a fare Uh, c'è subito una telecamera Sì E noi però dobbiamo passare di lì Quindi credo che Allora, sicuramente la dobbiamo disattivare, vero? Sì Vedi? Eh no, però ci vuole qualcosa Che la blocchi Che blocchi questo bottone Vedi? Allora Sicuramente dobbiamo usare il nastro trasportatore Per mettere Capito? Vedi quel rullo Sicuramente Per mettere un oggetto di sopra In modo tale che rimanga spenta la telecamera Esatto Ok Si fa complicato Soprattutto perché lì c'è un tizio Che sarà difficile Vai, 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 vai Da, a girare No, no, no Aspetta Stai camminando tutto storto Perché quella roba mi trasporta anche a me Capisci? Eh, lo so, lo so Quindi è abbastanza complicato Dovevi fare? No, non dovevi passare la lì Capito? Vai, 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 vai Ok Fere, ora come faccio però? Come faccio, Fere? C'è la telecamera però No, Steph Stai facendo un disastro Lo so, ma è difficilissimo Guarda Niente, niente Come si fa questo livello? Allora, Steph Proviamo in modo diverso Passa da questa parte Così non vieni Trasportato dal nastro E provi a mettere quello giù Mi hanno visto Mi hanno visto Prova a spostarlo Si può spostare? No E allora cosa dobbiamo mettere nell'altro? È quello che ti dicevo Fere Da due ore Scusi, mi becchi per favore Ok, grazie Non lo so allora Cioè, quello là È soltanto un ostacolo Ok Ok Per obbligarci a passare in mezzo A quella cosa che ci fa muovere Quindi È proprio un ostacolo quello Non è una cosa da sfruttare È quello che cercavo di farti capire prima Ma mi stavi incolpando di essere scarso Però questa volta provo una tattica completamente diversa Va bene? Vedi che lì dove c'è il tizio c'è una porta? Sì Proviamo a fare Ah beh sì Perché poi possiamo risalire da qua Sì ha senso Guarda Guarda Corri 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 Ok Opla Adesso io mi nascondo così Esatto E cavolo Lui fa davvero una strada molto molto breve Fai attenzione No Dai Vabbè vai Che sfiga Che sfiga E io lo tiro E io lo tiro Io corro Bisogna disabilitare anche l'altra telecamera Aspetta Tanto ormai non è molto importante Fere Ormai ci hanno beccato Quindi sinceramente non serve nulla a bloccare le telecamere Faccio così Guarda come gira Così li frego tutti Ok E adesso vado di qua Non è un buon modo per risolvere i livelli Stef Ok Modo e wireless Adesso devo schivarlo Come faccio a schivarlo Fere? Non è la più pallida Aspetta la vuoi una ciambella Ho funzionato Ho funzionato Corro Corri Corri Scappa Scappa Ma non ci credo che l'hai fatto così questo livello Non ci credo Ma dai Sei una cosa ridicola Cioè lei ha velenato con una ciambella Come hai fatto ad avelenarlo con una ciambella? Nessuno rifiuta una ciambella Fere La regola numero uno Anche se è velenata La ciambella è velenata e ti fa andare in bagno E quindi Ha funzionato Noi siamo riusciti a scappare È la cosa meno probabile di sempre Allora secondo me esatto Non era il modo corretto di farlo però L'abbiamo superato e va bene Ma vabbè ci ha beccato di pochissimo Quindi non ci ha essere beccato lì Avremmo fatto tutto Tatatatata E avremmo finito il livello facile facile Io non riesco a immaginare la difficoltà di questo livello a sto punto Dai proviamo Proviamo È notato che comunque è al buio adesso Sì Sì Quindi Lì c'è un laser Ok E c'è il buio Ah posso fare anche così per vedere tutto Vabbè ma è gigante Mi ero dimenticato Gigante sto posto Allora partiamo Ci prendiamo questo Finisci il laser Ok no ce l'ho fatta lo stesso Ok perfetto Noi passiamo da qui Passiamo così E ci rubiamo questa terza cosa Che cos'è questo? Un comic polveroso Quindi un fumetto Un fumetto Ok e siamo qua Oh mamma mia ma qua ci deve essere qualcosa di rarissimo Oh attento attento Tranquilla Fere Opla Ok Bisogna aspettare che si spenga Perfetto vai 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 Ok abbiamo preso quattro cose di nove al momento Adesso dobbiamo passare nel giardino insieme al vecchietto Vado? Oh no Hai visto dove c'è la roba da rubare? Sì sì Vado 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 Lo voglio lo voglio Devi proprio seguirlo Esatto Ok Ah no aspetta Questa era ancora più difficile Guarda da vera Ok Stranoscosta Stiamo qua Panino al prosciutto Aspetta aspetta Ho sempre pensando al cibo comunque Aspetta Fere Vai vai Ci sta per un panino ne vale la pena Ma secondo te ci sente correre? Sì Occhio 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 Guarda che bravo Stef Ma quello Ma chi l'aveva visto? Ma dai Ma Fere Non mi puoi sbagliare Nessuno mi aveva avisato Vabbè scappa Non mi puoi sbagliare all'ultimo Era così perfetto Tu l'avevi visto? No Ecco 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 almeno l'hai messo Però devi fare attenzione Quando entri in una stanza Era tutto buio Era nascosto al buio immobile Fermo che guardava lì Spiegami che cosa dovevo fare Stava controllando la porta La porta stava controllando Vabbè Almeno rubando nove cose su nove Siamo arrivati a due stelline Purtroppo però Quando veniamo comunque beccati Ma non acchiappati Perdiamo punti E quindi guadagniamo meno soldi Quindi anche lì Bisogna stare davvero attenti E certo Però mi sa che dobbiamo rapire Un cantante o qualcosa del genere Per il matrimonio E allora Non ho ben capito Ma è strano Guarda di nuovo Mi sa Che bisogna disabilitare Anche questo Premendolo Fammi vedere Guarda che succede Sì No si apre la porta Oh Si apre una porta E allora come facciamo? Non lo so Mi sembra che tu l'abbia attivato Vedi che non torna verde Ah ok Mi sembra che tu l'abbia attivato Ah ok Pensavo fosse come quello di prima Sì anch'io Però no è rimasto così Perfetto 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 Questo dove siamo adesso Forse è come quello di prima Vediamo Non lo so Un attimo Premilo Ok ok No questo lo devi tenere premuto Le guardie in sospettione verranno a indagare Quindi dobbiamo chiudere le porte Posso sfruttare la cosa a mio vantaggio Lui va a controllare lì Quindi preme Premi No benissimo E io passo di qui Bene così Fantastico Adesso mi prendo la chitarra elettrica Ah vedi non un cantante vero e proprio Ma soltanto la chitarra Non una chitarra qualsiasi Bobbo Quella chitarra apparteneva a Pelvis Prezzler Il Red and Rock In cambio di questo strumento quel cantante farà qualunque cosa Ah e quindi lo facciamo venire a cantare Al matrimonio della figlia Ok ci sta Questo è un 3 stelle secondo me Guarda Eh sì 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 In questo siamo andati bene Finalmente siamo tornati nella retteria Siamo andati bene E siamo riusciti a fare un bel livello Bravi 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 Davvero carino questo gioco Secondo me ci possiamo fermare così Allora secondo me è carino sia da episodio singolo Sia da miniserie Esatto Quindi se vi piace tanto 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 Con commenti, sondaggi, likes eccetera 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 Vediamo se fare appunto una miniserie sul gioco Altrimenti singolo video Simpatico, carino E niente E certo In ogni caso fatecelo sapere Noi ci fermiamo così Guarda che se vi scusate Siamo lasciate un like E questa è la prima volta che avete un nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdere i video di altri video Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!